e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi siamo qua per un unboxing di un prodotto che comunque mi serviva quindi ho voluto acquistarlo da appunto amazon per provare un po vedere se un prodotto del genere acquistandolo diciamo a basso costo da amazon da uno dei venditori di amazon perché non è amazon che lo vende questo ne vale la pena o no quindi ho speso per questa cosa qua meno di 50 euro comunque vi lascerò il link in descrizione magari nel video uscirà anche una breve un breve test visto che comunque domani dovrei partire per un vegettino e quindi niente andiamo a spacchettarlo andiamo a spacchettare ecco qua altro contenuto altra mezzo di cellofa ed ecco qua la scatoletta abbastanza carina away safe questo ragazzi è un navigatore eccolo qua un molto grande molto molto grande un navigatore bello grosso adesso proverò a vedere se si connette se si attacca al portacellulare sul sulla moto visto che ha questi attacchi dietro dovrebbe essere compatibili comunque adesso starò a vedere vediamo se si accende è un 7 pollici si esatto si accende già guardate adesso vediamo se avrà batteria a sufficienza ma non credo si abbiamo navigazione è già impostato sull'italiano almeno così è arrivato già impostato non c'è il segnale gps comunque lo proveremo su strada bello bello grande davvero non aspettavo un po più piccolo in più troviamo questo connettore da poter attaccare la macchina perché ha fatto per macchina un altro connettore sempre per la per l'auto vari attacchi da attaccare all'auto e su e i due carica batterie 1 usb è uno da attaccare all'accendi sigari della macchina molto abbastanza semplice questo prodottino del che ho pagato ragazzi meno di 50 euro molto grande su voi andare a vedere se riesco a connetterlo nel nel porta nel porta nel portacellulare della moto vediamo e guardate qua è proprio il suo bello grande e bello potente unica cosa che va bene non ha il case comunque vabbè domani già lo proverò credo se non va a piovere e vi farò un po sapere come funziona e niente sto partendo appunto per la toscana in questo momento sto utilizzando anche il navigatore nuovo e niente fino adesso mi sembra abbastanza ok come come navigatore si vede abbastanza bene sicuramente non è chiarissimo quando c'è tanto sole non si vede molto bene e mi raccomando non continuate a guardarlo io lo tengo solamente come diciamo riferimento comunque è molto almeno con l'impostazione che ho messo è anche molto ben visibile si vede abbastanza bene quindi niente io di solito navigo col cellulare attaccato all'interfono però siccome magari voglio andare spesso in svizzera quelle cose lì un navigatore che non utilizza internet per funzionare mi serviva quindi ho preso uno abbastanza economico e per il momento siamo partiti abbastanza bene io di solito quando conosco le strade non lo seguo mai perché anche quando anche quando magari mi indica altre strade così non lo seguo quasi mai è una figata sto navigatore ragazzi guardate nelle gallerie non so se si vede proprio mette il disegno della galleria in primo piano con quanto è lunga è davvero ottimo spero che duri tanto che vada avanti tanto costo 50 euro neanche link in descrizione e niente ragazzi spero che questa questo prodotto vi possa interessare ho fatto anche un breve test durante il viaggio quindi niente ragazzi se questo prodotto non mi piace non mi piace non ha funzionato bene sicuramente non vedrete nemmeno il video quindi ragazzi se mi è piaciuto il prodotto vedrete appunto questo video e vi lascerò il link e spero anche di avere essere riuscito a reperire magari qualche coupon da potervi proporre quindi niente ragazzi ecco qua grazie ancora per aver seguito il video e ciao ciao ciao